Lo sfigato per me è quello che è omologato, è quello che assomiglia a tutti gli altri, quello che non ha niente di diverso, lo sfigato è quello nel mucchio, la pecora, quindi praticamente quello che poi invece paradossalmente si sente figo perché no, sai quelli che vogliono, quello che copiano gli altri è perché loro vogliono appartenere, poi gli italiani sono bravissimi in questa cosa, a sembrare parte di un greggio.